Ebbene sì ragazzi è arrivato quel fatidico momento dell'anno in cui OnePlus annuncia il suo dispositivo top di gamma e sì ragazzi lo so che forse l'entusiasmo è un po' cambiato rispetto agli anni passati quando l'azienda presentava un solo dispositivo l'anno ma posso garantirvi e sicuramente potrete farlo anche voi, potrete dirmi che insomma quando OnePlus lancia un nuovo dispositivo top di gamma la tensione è veramente altissima e l'interesse è molto alto. OnePlus 11 è stato presentato nelle prime ore del mattino con il nostro fuso orario mentre in Cina era già passata l'ora di pranzo OnePlus 11 è finalmente realtà e io sono pronto a raccontarvi tutti i dettagli di questo smartphone nel nostro video anteprima. Partiamo subito dalla precisazione ragazzi che è quella relativa al numero dei modelli presentati nessun modello pro almeno per il momento OnePlus 11 è il flagship top di gamma di quest'anno inizialmente si parlava di un corpo in ceramica supportato da una struttura in metallo ma alla fine il dispositivo è stato lanciato con una scocca in vetro per il design del pannello posteriore OnePlus ha deciso di riproporre un modulo fotografico che si congiunge con il frame laterale ma questa volta con una sezione circolare per contenere la sensoristica il tutto è ispirato al concetto di black hole con un modulo in acciaio inossidabile cromato e qui ragazzi lo so che si divideranno i pareri, le opinioni saranno contrastati quello che posso dirvi è che a me piace tantissimo ma voglio sapere la vostra nei commenti qui in basso fatemi sapere se questo design adottato da OnePlus vi piace oppure era meglio rimanere su qualcosa di un po' più sobrio forse le colorazioni sono nelle tonalità instant green ed endless black il modello nero ha una texture ruvida in stile arenaria un po' come i primi modelli lanciati da OnePlus mentre la versione verde presenta una finitura lucida un po' più tradizionale il contenuto della confezione invece è il classico di OnePlus la confezione è la solita rossa con un bell'11 stampato in primo piano e contiene al suo interno lo smartphone, la cover in silicone, manuale di istruzioni, spilletta sim caricatore a cavo USB Type-C e qualche adesivo un po' in stile Apple sono sicuro ragazzi che però vogliate sapere qualche informazione un po' più tecnica di questo smartphone e voglio partire da una delle principali ovvero il display che l'azienda ha scelto per questo OnePlus 11 si tratta di un pannello curvo di tipo AMOLED con compatibilità HDR10 e un punch hole centrale 6,7 pollici e risoluzione 2K una soluzione LTPO 3.0 con refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz profondità colore fino a 10 bit, luminosità fino a 1300 nits e protezione Gorilla Glass Victus oltre che ovviamente un sensore biometrico di tipo ottico sotto lo schermo quindi su questo fronte è configurazione davvero top di gamma resta poi l'alert slider che sembra confermarsi esclusiva dei soliti top di gamma di OnePlus e per chi si fosse perso la definizione di questo alert slider si tratta del classico slider presente nella parte laterale dello smartphone che consente di entrare nella modalità silenziosa oppure di ritornare nella modalità consuoneria è una caratteristica che ormai OnePlus ripropone sin dai primi modelli e continua a farlo e secondo me è una scelta vincente perché la trovo molto molto comoda da utilizzare su uno smartphone poi in quanto a dimensioni il OnePlus 11 misura 163,1 x 74,1 x 8,5 mm pesa circa 205 grammi e in quanto a resistenze ad acqua e polvere qui abbiamo una certificazione IP54 anche se a dirla tutta su un dispositivo di questo tipo almeno IP68 ce lo saremmo aspettati o almeno io personalmente è arrivato però il momento ragazzi di svelarvi quello che è l'hardware scelto da OnePlus qualora non lo abbiate già visto nei vari rumor che stanno circolando da diversi giorni Snapdragon 8 di generazione 2 praticamente la CPU più potente attualmente sul mercato che ha un processo produttivo e basata su un processo produttivo a 4 nanometri è ovviamente octa-core ed è abbinata ad una GPU Adreno 740 in quanto a memoria RAM abbiamo delle LPDDR5X da 12 o da 16 GB in quanto invece a memorie interne 256 o 512 GB di tipo UFS 4.0 ovviamente non espandibile OnePlus inoltre tra le novità ha anche annunciato una nuova tecnologia proprietaria dedicata alla gestione della memoria Android con un sistema inedito di ricostruzione dello strato inferiore in sostanza si tratta di una soluzione che consente di avere delle prestazioni fluide anche dopo anni di utilizzo con app e giochi sappiamo benissimo che i benchmark, i giochi fatti con uso stressante mettono sotto stress la CPU e ne riducono la vita con questa soluzione proposta da OnePlus almeno tecnicamente, almeno sulla carta questo non dovrebbe succedere quindi dovremmo avere uno smartphone sempre affidabile sempre performante nel tempo a prescindere insomma dal tipo di utilizzo che ne facciamo inoltre l'azienda ha annunciato una collaborazione con Unity che si concretizza nella presenza di un motore dedicato alla gestione del frame rate il super frame rate e il super picture engine sono tutte quante ottimizzazioni volte a migliorare l'utilizzo dello smartphone soprattutto in ambito multimediale e gaming e questo lo conferma anche la presenza di un altro componente aggiornato il Bionic Aptic Motor ovvero un motore di vibrazione X-axis che restituisce un feedback aptico migliorato oltre che ovviamente anche il raffreddamento al liquido che raggiunge una superficie maggiorata su questo modello ma in quanto a performance ragazzi è inutile dire che almeno tecnicamente si configura come un primo della classe lo abbiamo già vistato su Geekbench oltre che su Antutu e in questo caso i benchmark hanno segnalato dei valori superiori a 1.300.000 punti molto più alti rispetto a quelli che erano i valori registrati con Vivo X90 Pro Plus di cui Dario ci ha parlato qualche settimana fa e che ci aveva insomma stupito su tutti i fronti in ambito benchmark registrando di fatto i numeri da top di gamma OnePlus ovviamente li supera tranquillamente per la batteria invece trova spazio in unità a doppia cella da 5000 mAh con ricarica warp charge che rispetto al modello precedente passa da 80 a 100 Watt noi abbiamo purtroppo su questo modello la tecnologia a 150 Watt presente a bordo del modello 10T ma sono sicuro che quasi certamente la vedremo a bordo del modello 11R 11R che ufficialmente ancora non è stato presentato ma sappiamo benissimo che le sorprese con OnePlus sono sempre dietro l'angolo per cui continuate a seguirci su Geekbenchina.it perché lì vi avvisiamo insomma dell'uscita in tempo reale dei nuovi prodotti il reparto connettività invece comprende il nuovo modem Snapdragon X75G oltre ovviamente a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e USB Type-C a 3.1 tra le specifiche aggiuntive troviamo anche lo speaker stereo Dolby Atmos come vi dicevo il Bionic Aptic Motor e anche il sistema di raffreddamento che raggiunge fino a 3685 mm quadrati di superficie in quanto a versione software ragazzi ovviamente si tratta di un dispositivo di provenienza cinese quindi parliamo di ColorOS in versione 13 per quanto riguarda il nostro mercato invece tra poco più di un mese vedremo il dispositivo senza dubbio con la OxygenOS sempre basata su Android 13 e poi ragazzi c'è il comparto fotografico la vera chicca di questo modello che è composto da una rinnovata tripla fotocamera in collaborazione con Hasselblad i moduli sono da 50 più 48 più 32 megapixel comprensivi del sensore primario che è un Sony MX890 con stabilizzatore ottico che presumibilmente è lo stesso obiettivo che vedremo montato sul Oppo Find X6 Pro che è nell'area e nell'area ragazzi sta per arrivare gli altri moduli sono un ultra grande angolare Sony MX581 un teleobiettivo 2x MX709 oltre che digitale fino a 20x la selfie camera invece è un sensore da 16 megapixel f2.4 la presentazione ovviamente è stata per il mercato cinese mentre per quello italiano globale ed europeo per l'appunto avremo la necessità di aspettare almeno circa un mese in più per il 7 febbraio infatti è previsto l'evento di lancio globale in Cina i prezzi devo dire che sono veramente veramente molto interessanti perché si parte da 550 euro circa al cambio attuale per la versione 12-256 fino a 670-680 euro circa per la versione maxata quindi quella da 16 giga di RAM e 512 giga di storage ovviamente si parla di prezzi per le versioni cinesi da noi sicuramente saranno un pochettino più alti forse anche un bel po' più alti quindi lo scopriremo fra un mesetto circa ma è un dispositivo veramente che ha tutte le carte in regola per spaccare il mercato degli smartphone io ovviamente resto in attesa delle vostre opinioni su questo smartphone nei commenti e noi come al solito ci vediamo in un prossimo video sempre qui su GIZ GIZ Grazie.